Il 7 agosto del 1927, Lauren Grivella, Arturo Ottoz, Osvaldo Ottoz, Albino Pernard scalarono il Per Eternel. Che dobbiamo fare Luca oggi? Scalare una pertica. Com'è il tiro? È bello! Sì, c'è un palo! È un palo? Un palo, c'è un palo. Un bel palo. Un ago di roccia che ha un aspetto veramente incredibile si trova sulla cresta nord della Ghil della Bremba, nel Monte Bianco. Tutto oggi risulta una via di grande interesse se percorsa con la sottostante via Papa Giovanni Paolo II.